Questo era l'ultimo cinema di Genova, era il cinema moderno, dovrebbe essere il cinema moderno. Vedete questo cartello chiuso per manutenzione, è un cartello che è stato apposto nel mese di giugno. Siamo alla fine dell'anno e non è cambiato nulla, perché la manutenzione però non è stata fatta, da quello che sappiamo. Guardate un po', c'è la locandina dell'ultimo film che è andato, che è come un segno del destino, che dice il mondo di domani è quello di oggi, non abbiamo notizie, eccolo qua. Il cinema moderno, che è più antico di Genova, poi venne chiuso, venne rifatto, si chiamava il Pirocchietto all'inizio, e tolto questo non c'è più niente, non abbiamo cinema di Genova, non abbiamo teatro, abbiamo una landa desolata. Ieri abbiamo notato che il proprietario Roberto Ettore stava togliendo le ultime locandine, proprio per dire che ormai di cinema qui non c'è più niente. C'è chiuso per manutenzione, ma se si vedono in fondo gli accattestamenti di tante cose, forse già tolte, quindi non diciamo uno smantellamento, ma insomma quella cosa pare che non avrebbe più nulla che fare nulla con il cinema. Questo era. Si chiamava cinema moderno, era molto moderno, però non abbiamo più niente, nessun cinema. Ne avevamo quattro, di cui uno all'aperto dagli anni Sessanta e poi, ora niente. Non abbiamo più il teatro, era il teatro Harrison, non c'è più nemmeno quello, è diventato un edificio privato, e si aspetta un teatro che dovrebbe sorgere sulle ceneri dell'ex Adam, ma non si sa quando. Quindi al momento, chiuso per manutenzione, purtroppo lo è anche la città.